Dalla settimana prossima vaccini alla caserma Berardi. Nessun stravolgimento per quanto riguarda la viabilità a lungo via l'Italia, ma solo la soppressione di alcuni parcheggi sulla carreggiata a destra direzione Mercogliano. I posti auto saranno eliminati dall'altezza della traversa di via Tripoli a salire verso la caserma. Fino al termine dell'emergenza verrà istituita in via provvisoria una corsia di canalizzazione fermata fino all'ingresso principale della Berardi. Il percorso sarà riservato esclusivamente ai cittadini convocati dall'AS di Avellino per essere sottoposti alle vaccinazioni che cominceranno martedì 6 aprile. Si entrerà e uscirà dal stesso ingresso anche perché diciamo che dal momento che verrà vaccinato la persona dovrà perdere un po' di tempo all'interno della caserma per via dell'effetto. Dopodiché usciranno quindi ci sarà un ingresso e un'uscita scaglionata a cui provvederanno i militari a disciplinare l'ingresso e l'uscita. Non ci sarà nessun cambio di senso di marcia. Sono stati aboliti solo questi parcheggi, ripeto, per consentire alle auto di incolonarsi e entrare all'interno della caserma Berardi senza creare grossi problemi. Almeno così abbiamo deciso all'unisono con il capitano russo della caserma Berardi. Dopodiché se dovremmo fare qualche piccolo intervento di miglioramento siamo sicuramente pronti a fare tutto quello che c'è da fare per migliorare il servizio da offrire ai cittadini.